la vedi sta sicuro vai dietro al culo del cane vai dietro al culo del cane tanto vuoi lasciare fuori al pulito lì aspetta aspetta che non si è posizionato lui eccola presa presa sacchetto vediamo un bel sacchettino eccolo qui setter adventure quality hunting all over the world ecco qua ci mettiamo le beccacce ma non c'è il panino ci siamo mangiato già il panino